a far crescere il vostro canale youtube mi spiegherò i consigli di tutto quello che ho imparato su youtube in questi anni io vi saluto e spero di rivedervi presto ragazzi io ho deciso che da oggi basta con l'amore ok? basta già con l'amore e tutto questo vale? io sono una mujer single con 5 de perros e cavallos vale? io sta con l'amore perché è solo soffrimento ragazzi questa deve essere l'attitud sono single sono single sono single sono single yes la balagna i miei cavalli no uno è tipo ad arezzo fare una gara sono dipendenti vengo cosa? dipendenti sono dipendenti i cavalli no raga allora mi sta mettendo un mutandone a me l'unica cosa che mi piace sono le mie tette mi vogliono fare allora ho un mutandone due mutandone e il mio mutandone cioè cosa vogliamo fare? al mio 3 il plie un due tre un due tre e un due tre e il mutandone mia mamma che mi scrive come ti senti? amore mio mamma ti amo I love you baby a me l'unica cosa che mi piace è 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 l'un